Non dimenticare mai la bellezza, la bellezza della vita, la bellezza dello sport, quella bellezza che Dio ci ha dato. Lo sport è una strada molto adatta per questa scoperta, per aprirsi, per uscire dalle proprie chiusure e mettersi in gioco. Così si impara a partecipare, a superarsi, a fare fatica insieme. E tutto questo aiuta a diventare membri attivi della società e anche della Chiesa. E aiuta la società stessa e la Chiesa a superare ogni forma di discriminazione e di esclusione. Così Papa Francesco ha accolto in Vaticano una delegazione di 150 atleti diversamente abili, coinvolti nel progetto Special Olympics, che a fine luglio parteciperanno ai giochi mondiali di Los Angeles. E li ha incoraggiati a proseguire nell'impegno di aiutarsi gli uni gli altri a scoprire le vostre potenzialità e ad amare la vita, ad apprezzarla con tutti i suoi limiti e soprattutto nei suoi lati belli. Non lasciatevi contagiare dalla falsa cultura sportiva, ha concluso il Papa, quella del successo economico, della vittoria ad ogni costo, dell'individualismo. Bisogna invece custodire e difendere lo sport come esperienza di valori umani, di competizione sì, ma nella lealtà, nella solidarietà, dignità per ogni persona sempre. Nessuno si sente escluso dalla pratica dello sport.